Il Circolo PD Guido Faletra propone la seconda edizione della Scuola di Formazione Politica Mario Arnone, uno spazio di confronto, discussione e formazione politica aperto a tutti. L'obiettivo è quello di costruire una cultura politica diffusa, improntata ai valori della giustizia sociale ed ambientale, dell'uguaglianza, della libertà, della democrazia e della pace. Incontri che nella seconda edizione riguarderanno la questione meridionale intesa come grande questione nazionale ed europea tra gli appuntamenti che prevedono il 18 marzo l'analisi del contributo di Gaetano Salvemini nell'incontro con il professor Francesco Barbagallo, ordinario di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli. L'8 aprile si parlerà di Antonio Gramsci con il dottor Francesco Giasi, direttore dell'Istituto Gramsci, e il 15 aprile l'incontro riguarderà le idee sul mezzogiorno di Don Luigi Sturzo con l'onorevole Gianpaolo D'Andrea.